30 marzo 2023, ultimo messaggio della Madonna di Anguera I tempi da me predetti sono arrivati Ecco una delle frasi che non avremmo mai voluto sentire dalla Madonna e che invece è arrivata. La madre di Gesù nel suo ultimo messaggio donato al veggente brasiliano Pedro Regis dice che i tempi finali sono arrivati e che dobbiamo avere coraggio e farci trovare preparati con il Santo Rosario e la Sacra Scrittura nelle nostre mani affinché la nostra anima possa salvarsi. Purtroppo tutti noi stiamo andando verso quell'abisso infernale che ci porterà all'autodistruzione e in questo momento, importante, dobbiamo essere uniti e pregare tanto, vivendo l'amore per la verità. Leggiamo il messaggio Cari figli, cercate il Signore. Egli vi chiama a essere uomini e donne di preghiera. L'umanità verrà il calice amaro della sofferenza e solo chi prega porterà il peso della croce. Dal profondo verrà un grande dolore per l'umanità. Ecco, i tempi da me predetti sono arrivati. Coraggio! Nelle mani il Santo Rosario e la Sacra Scrittura. Nel cuore l'amore per la verità. L'umanità cammina verso l'avvisso dell'autodistruzione che gli uomini hanno preparato con le loro stesse mani. Pentitevi e rivolgetevi a colui che vi ama e vi perdona. Andate avanti lungo il cammino che vi ho indicato. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete in pace.